Nel documento strategico della mobilità ferroviaria, passeggeri e merci pervenuto alle camere dal MIMS, sono previsti tre studi di fattibilità per l'Abruzzo, due riguardanti l'Aquila, inseriti dal ministro Giovannini. Ad annunciarlo l'onorevole Stefania Pezzopane. Il tema è il collegamento ferroviario l'Aquila-Roma ed è l'attenzione della Commissione in cui la stessa opera alla Camera. In particolare, gli studi riguardano la tratta l'Aquila-Tagliacozzo, l'altro Roma-Pescara con le tratte Roma-Tagliacozzo, Abezzano-Sulmona e Scafa-Prato-La Peligna e poi c'è il miglioramento del collegamento tra Roma e i capoluoghi di provincia del cratere, l'Aquila-Teramo-Ascoli e Rieti. Per quest'ultimo studio ci sono già 40 milioni assegnati, anche per gli altri studi ci sono dei finanziamenti e quindi si faranno. Dallo studio di fattibilità si passerà poi all'accordo di programma tra RFI e Ministero e poi alla fase operativa, ha detto la Pezzopane, che ha richiamato però la Regione ad alcune responsabilità, dicendo che comunque loro appoggeranno e sosterranno questo lavoro. Uno riguarda la tratta ferroviaria all'Aquila-Tagliacozzo, l'altra l'Aquila-Rieti-Roma. Naturalmente gli studi di fattibilità vanno approntati, vanno definiti e subito ci deve essere un grande coinvolgimento delle parti in causa per evitare come sta accadendo su Pescara-Roma che ha stato avanzato della progettazione intervengano i veti incrociati. E quindi prima di tutto c'è però da affrontare un tema. Il tema è quello che si fa nel frattempo per fare l'Aquila-Roma. Ecco la mia proposta. Alla Regione io dico prima di tutto abbassare il prezzo del bus, del biglietto. Secondo fare il biglietto unico tra vettore privato e vettore pubblico. Terzo aumentare le corse perché, e lo dico da pendolare, la situazione così com'è non regge. Quindi la Regione, mentre si fanno i progetti di fattibilità, deve fare un intervento per favorire lo scambio l'Aquila-Roma perché sono state ridotte le corse e non c'è questo aiuto per pendolari ma anche turisti. Poi sugli studi di fattibilità. Ho ricevuto una stravagante lettera del sindaco e del presidente della Regione che invitano i parlamentari a sostenere gli studi di fattibilità. Sinceramente non so a quali parlamentari si rivolga perché essendo uno studio e un programma del ministro, del nostro ministro, è chiaro che noi sosterremo.